un minuto almeno beh insomma, era la notte di Zeiss qual è il maggiore? io, lui, lui è diverso, è caratterialmente vedo che caratterialmente è diverso si, non è che sono esuberante e lei invece un po' più ma anche io si, anch'io sono un pochino più tranquillo diciamo si, sono tifoso ma non giocavate, mi ricordo io, io, io gioco dove hai giocato al massimo livello ho giocato in serie B poi adesso gli ultimi anni faccio la serie C ruolo centrale e lei invece non giocava? io no, ho iniziato con lui all'età di 13-14 anni poi dopo